Questa è una parte della pista da fondo, è una pista che è lunga circa 7 chilometri in mezzo e fa poi un anello intorno al Monte Maiori, parte dalla zona delle Piranze della Betone e gira appunto intorno a un bivio, da una parte si va verso il settore nord e da quell'altra verso il settore sud, tant'è che nella parte al sud non c'è più neve. Eccolo qua, il suo percorso è in mezzo a abeti e faggi, è il percorso abituale estivo degli abetonesi, dei pensionati, dei villeggianti, qui ancora c'è tanta neve perché ovviamente è stata battuta per la pista del fondo e quindi ancora rimane, si vede sullo sfondo, si vedono dei miei amici che stanno venendo in su, ecco, si sta cercando funghi dormienti, però là non è che se ne siano naturalizzanti, anzi, è un fungo che viene sotto la neve ma ovviamente si chiama marzuolo e quindi c'è una qualche ragione, cioè viene normalmente di marzo, è un igroforo, igroforo e un marzuolo e fa in queste pareti che sto riprendendo, queste poggiate come si dice dalle nostre parti.